Ora, io non lo so che cosa avete nel feed di TikTok, ma il mio sta letteralmente esplodendo dopo la serata di ieri. Anna ha ufficializzato l'uscita del suo nuovo singolo Bad Bitch Ever. Sigla e via con la notizia. Sono Riccardo Divigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto portato a ricuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo è imperdibile, i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Ehi là! Come andiamo? Ebbene sì, Anna ha ufficializzato l'uscita del suo nuovo singolo e l'acronimo è BBE, acronimo di Bad Bitch Ever per l'appunto. La collaborazione è con Lazza ed è prevista per questo venerdì 10 maggio. Il brano ha tutta l'aria di essere un esplosivo banger rap e, sia chiaro, rappresenta la terza collaborazione tra Anna e il rapper di Sirio dopo 3 di Cuori, presente nell'EP di Anna, lista 47 e Fashion, nell'album di Drillionaire, uscito un anno fa con anche la presenza di Tony F. A seguire l'uscita di Vieni dalla Baddie, Bad Bitch Ever rappresenta un altro passo verso il nuovo album dell'artista ormai sempre più vicino. O almeno è lecito pensarlo.